Nell'attesissimo big match al vertice della Premier League tra Liverpool e Arsenal, il risultato lascia invariata la classifica, visto anche il pareggio dell'Aston Villa, uno a uno con entrambe le squadre che hanno perso l'opportunità di vincere, perché per entrambe, ma soprattutto per il Liverpool, ci sarebbe stata una grossa occasione in diversi momenti della gara di fare tre punti ai danni dell'altra. Arteta ha impostato l'Arsenal in maniera nettamente diversa rispetto all'abitudine, rispetto a tantissime, quasi tutte le partite di questa stagione. Un Arsenal a blocco più basso, leggermente più attendista, a lasciar costruire il Liverpool, a lasciar sfogare il Liverpool per togliere la profondità, ma questo ha comportato una grossa difficoltà per i Gunners nella riconquista del pallone e soprattutto nella risalita del campo. Tant'è che si sono visti tanti giocatori di Arteta interpretare il ruolo in maniera molto differente rispetto alle abitudini e parlo soprattutto di Odegaard, che ha commesso delle sviste e degli errori, per il resto ha fatto una partita notevole, ma ha dovuto giocare molto più lontano dalla porta avversaria di quanto non si è abituato a fare. Stesso discorso per quanto riguarda Havertz e in parte Martinelli. Nettamente più in avanti invece Saka, isolato un po' troppo spesso nell'uno contro uno, ma comunque è capace di creare pericoli. Buona guardia da parte di Salipa, sempre più affidabile, gol molto importante da parte di Gabriel a inizio partita. Ci sarebbe stato probabilmente un rigore per il Liverpool sull'1-0 per l'Arsenal, per quella mano di Odegaard che sfiora il pallone. Per il resto il Liverpool può recriminare soprattutto per la traversa clamorosa di Alexander Harden nel secondo tempo e per qualche altra, direi, diverse occasioni sprecate, tirando addosso a Raja che comunque ha fatto delle buone parate, ma anche non riuscendo ad andare puliti alla conclusione. Complice anche la difesa bassa, densa e intensa, come dicevo, dell'Arsenal. Cambi importanti da parte di Klopp, perché vi è stato costretto, perché ha scelto di farli, ma non è riuscito a sbloccare in questo senso la partita. Il pareggio arriva tra l'altro con un'azione che se vogliamo è tipica del Liverpool, ma non del tutto perché è un lancio lungo di Alexander-Arnold, improvviso per Salah che non era isolato in posizione di vantaggio, ma riesce comunque abilmente a superare Zinchenko che lo marcava abbastanza da vicino. Uno contro uno, rientro e tiro, insomma una grandissima giocata di Salah, un gravissimo errore di Zinchenko, ma in quella situazione l'Arsenal aveva tutt'altro che lasciato la profondità. Anzi, la linea di difesa era atipicamente ribassata, nonostante fosse un'impostazione da dietro del Liverpool. In quei casi normalmente l'Arsenal sale parecchio in avanti e va a fare riaggressione, riversandosi a volte anche tutto nella metà campo avversaria, cosa che in questa partita non è mai successo. Tante tantissime le ripartenze infatti da parte dei ragazzi di Arteta, che non sono stati efficaci neanche loro, ma appunto pure l'Arsenal avrebbe avuto diverse opportunità per vincere questa partita. Così non è andata, è stata una partita anche nervosa, Klopp ha sbraitato tantissimo in panchina per quanto riguarda le decisioni dell'arbitro, recriminava qualcosa anche Havers, ma non c'era assolutamente nulla su di lui in attacco nel secondo tempo sull'1-1. E insomma, possiamo quasi sintetizzare due squadre che non hanno voluto farsi male in questa partita pre-natalizia, questa diciottesima giornata di Premier League, perché avrebbero davvero potuto fare di più. Occasione mancata ovviamente soprattutto per il Liverpool, che oltre ad aver avuto più possibilità di segnare e aver attaccato di più e fatto più possesso palla, si trovava un punto dietro e quindi perde la chance, una chance molto importante, di sorpassare l'Arsenal di Arteta, che resta comunque all'esito di questa giornata al primo posto in classifica. Grazie 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 Grazie